buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video in questo video ho il piacere di parlarvi della storia di frank muller un grande orologiaio una storia interessante un marchio che ha fatto un po la storia dell'orologeria tra gli anni 90 e gli anni 2000 forse oggi troppo ingiustamente trascurato anche da me quindi questa è una di quelle di quei video che mi aiutano anche a capire meglio la grande e apprezzare la grandezza di quello che è sicuramente un grande orologiaio con una storia breve ma tormentata anch'essa vediamo subito di cosa si tratta frank muller nasce nel 1958 alla shot fonda cioè in quella cittadina che abbiamo ricordato tante volte che sembra veramente essere il centro nell'ambito del valet de ju del giula svizzero della svizzera francese sembra proprio essere il centro del centro dell'orologeria non vicinissimo alle locle abbastanza vicino a noschatel eccetera eccetera quindi ai natali che più orologerì così non si può la madre è pugliese quindi è il padre invece cittadino svizzero quindi in realtà frank muller anche se pochi lo sanno a doppia cittadinanza svizzera e pura italiana ed è un altro grande onore avere a noverare anche frank muller fra coloro che hanno a che vedere persino nei loro geni esagero ma diciamo che la loro provenienza con l'italia e quindi ne diamo atto perché è una cosa per esempio che anch'io ignoravo vediamo un po tutto all'età di 15 anni frank muller lascia la shot fond e va alla scuola di orologeria di ginevra presso cui si diplomerà dopo il diploma dimostrando già un notevole talento frank muller diventa molto presto un riparatore restauratore di orologi da tasca anche molto complicati si fa molto velocemente un nome nel settore e quindi sia musei importanti come quello di patek philippe sia altri musei sia clienti privati collezionisti gli affidano la manutenzione delle loro complicazioni da tasca nel 1984 poi lui progetta il suo primo orologio da polso con tourbillon e ricordiamo che nell'84 un tourbillon da polso ha una rarità nell'85 ci sarà vincent calabrese che per blampen anzi per frederic piguet cioè poi per blampen progetterà il tourbillon più piatto del mondo il che è rimasto tale per tanti anni con 3,5 mm quello con otto giorni di riserva di carica con indicazione della data con indicazione della riserva di carica il primo tourbillon volante da polso il primo tourbillon volante a un minuto il primo tourbillon con bilanciere eccentrico rispetto alla gabbia del tourbillon stesso una serie di ricorda che verranno mantenuti per oltre 30 anni poi è vero però che quel tourbillon purtroppo breguet breguet blampen così pieno di ricordo lo metto in produzione solo nel 91 insomma in anni e più recenti poi potete vedere i video di calabrese per avere una timeline più precisa naturalmente inizia presto a voler sentire il desiderio essendo molto bravo di poter avere un proprio brand indipendente si pensi che secondo voci che non so neanche se sono vere cioè nel senso che io non ho trovato conferma ma qualcuno mi raccontò qualcuno di molto informato mi raccontò che frank muller proposa addirittura rolex un calendario perpetuo su uno dei suoi modelli quindi tanto per dire e traboccante di talento nel 91 comunque si mette in proprio e decide di fare orologi il primo orologio è chiamato frank geneva e non è proprio un orologio possibile semplice perché a due quadranti e ore del mondo cronografo mono pulsante indicazione giorno e notte guardate lo spessore limitato e guardate il secondo quadrante con la scala col cronografo e la scala pulsometrica quindi veramente sensazionale poi l'indicazione del cronografo senza scala pulsometrica e anche sul lato a nel mille sempre nel 1991 quando con vartan si marquez che è un ginevrino fabbricatore di casse esperto di pietre preziose collezionista di orologi fonda la tecnowatch sa con sede a gentod vicino a ginevra allora una delle prime cose che viene anzitutto viene presa questa villa sulle colline sopra il lago le mano e questa villa è dell'inizio del ventesimo secolo di un famoso architetto di cui comunque non ricordo il nome ma non è le courboise che tanto ha dato in quelle zone e che veniva da neo chatelle come sappiamo e questa villa molto bella che viene completamente restaurata e circondata da un enorme parco molto bello eccetera nel parco vengono costruite diciamo così quello che diventa watch land cioè un parco che espone in modo molto spettacolare un po tutte le fasi produttive degli orologi che si chiameranno frank muller e quel qui c'è un'idea proprio del parco tematico che era molto cara anche all'amico di frank muller elton john nel 1992 viene presentato questo come il più orologio l'orologio da polso più complicato al mondo abbiamo un calendario perpetuo con mesi retrogradi e retrogradi fasi di luna abbiamo un equazione del tempo e persino un termometro per il 1992 ho trovato in vendita da sotteby anni fa questo orologio grande complicazione perché ha un calendario perpetuo con equazioni del tempo retrograde mesi retrogradi eccetera un cronografo con rattrappante e una ripetizione minuti cariona guardate la lo spessore della cassa che sembra ridotto almeno in proporzione al diametro e guardate la magnificenza del calibro pur non cessando mai di fare orologi anche con la cassa tonda molto presto frank muller impone la sua nuova cassa cioè la cassa sintrex curve cioè arcuata in una curva sarebbe il significato è una evoluzione abbastanza notevole della cassa tonno che già negli anni 70 aveva conosciuto molta fortuna e che mi presenta peraltro un'esposizione italiana per la prima volta nel 1987 quindi prima ancora di fondare frank geneve poi frank muller un'altra presentazione prima mondiale nel 94 quando viene lanciato il calibro 94 che appunto una ripetizione minuti con una indicatore del meccanismo della percussione che non so cosa sia un calendario perpetuo mesi equazione del tempo con mesi retrogradi un tour bion brevettato che compare sul quadrante e una sfera dei secondi retrogradi e anche un termometro di questo orologio purtroppo non sono riuscito a trovare una foto certa nel 1996 viene presentato il master bunker che ha la novità di avere tre fusi orari visibili contemporaneamente indipendenti che sono regolabili dalla stessa corona frank muller dice che questo ha comportato lo studio del calibro dalla z però io sapevo una cosa un po diversa cioè che in realtà per i frank muller di base questo è uno di quelli chiamati così di base in genere i calibri sono meta di base poi ci sono dei moduli complicati questo ad esempio è sempre un bellissimo cronografo con calendario completo probabilmente monta un frederick piguet derivato dal 1185 ma altri cronografi montano calibri meno pregiati le mani a 1870 questi orologi qui quindi non sulle altissime complicazioni sviluppati interamente da frank muller sempre difficile capire qual è il calibro base non c'è una gran trasparenza è difficile trovare informazioni in rete quando si trovano non è detto che sia esatto poi dopo capiremo meglio anche perché così difficile non è un caso e purtroppo questo anno ciutto anche un po alla fama di frank muller ma andiamo avanti con alcuni dei suoi orologi più rappresentativi quello che vedete qui ad esempio è il conquistatore uscito nel 1997 io ho trovato soprattutto cronografi automatici cosa montano forse forse addirittura un 77 53 modificato chissà questo è un orologio ad esempio del 2000 non è che costassero poco è nel 1998 viene presentato il master city cronograf che è un cronografo con secondo fuso orario e con ore del mondo in 14 città nel 1999 esce un calibro chiamato 99 di cui io però non riesco a trovare traccia e soprattutto il vegas che è un modello molto famoso perché è uno orologio in cui praticamente premendo il pulsante coassiale alla corona la roulette russa al centro gira e quindi è per questo si chiama vegas ma qui ci viene fortunatamente in aiuto il video che mi ha inviato gentilmente molto gentilmente l'amico pia cesare del canale se jean che mi fa vedere il suo vegas come funzione come vedete è la sferetta al centro cioè quella terza sfera che ruota velocemente poi si ferma appunto col meccanismo della roulette quindi funzioni in questo modo orologio così vedete anche bene a cassa cintrex curvex che mi piace mi piace molto senza ombra di dubbio ci dovrebbe essere anche uno slow motion di questo sferino che si muove adesso non ancora vediamo un po e lo sto guardando con voi e lo sto commentando con voi ecco la magia di fremium è stata molto spesso questa ecco lo slow motion è sicuramente questo in cui ecco si vede che gira e si arresta con casualità e la magia di fremium è stata questa complicazioni originali anche semplici a volte complicazioni mai pensate da altre complicazioni rese visibili per la prima volta in modo innovativo ecco questo è stato anche frank muller ed è frank muller quindi questo video ci aiuta anche a un po riscoprire nella magia che spesso le foto non danno poi vedrete altri contributi di pia cesare in questo video se jean cioè da jean in francese c h e z jean è il suo canale youtube ed è facile capire perché così si chiama ora sempre grazie a pia cesare state vedendo il retro di questo calibro cioè il lato b insomma col fondello smontato ed è un etta 2 8 9 2 stiamo ora per vedere un orologio presentato nel 2000 questo il long island cioè abbiamo due lancette retrograde dei secondi primi 30 secondi 30 che danno spettacoli di movimento sul quadrante nessuno ci aveva pensato prima l'imperial tourbillon che è un tourbillon volante con delle dimensioni non eccessive 35 per 42 mm e qui il calibro è tutto di manufattura certamente e si dice anche rifinito a mano nel 2002 esce un vero capolavoro dell'orologeria il revolution one di cosa si tratta si tratta di un altro flying tourbillon con una caratteristica però esclusiva quando si schiaccia il pulsante a ore 8 diciamo quello che vedete il la gabbia del tourbillon e quindi tutto l'organo regolatore si solleva arrivando a qualche micron dal vetro zaffero questo per consentire una visione più agevole del tourbillon ma attenzione sono stati depositati molto brevetti per fare questa cosa perché non è una cosa facile basti pensare che se le sfere si trovano sopra il foro del tourbillon a ore 6 quando sezioni pulsante possono può si può danneggiare l'orologio allora cosa ha fatto frank muller ha fatto in modo che ogni volta che si preme il pulsante finché lo si viene premuto le sfere vanno al 12 comunque quando si rilascia il pulsante le sfere tornano a indicare l'ora corretta una meraviglia chapeau nel 2003 abbiamo il revolution 2 qui non c'è più un pulsante che inalza la cassa qui però c'è per la prima volta un onnico organo regolatore con due gabbie ciascuna delle quali ruota attorno a un asse perpendicolare a quella di rotazione dell'altro e vanno a velocità diverse che ci sono a lato del tourbillon degli indicatori che sono 60 secondi per una rotazione attorno a un asse otto minuti per la rotazione dell'altro e qui vedete in esclusiva un'immagine del retro di questo calibro guardate le finiture guardate anche la linearità con cui è presentato nel lato b bellissimo ecco la sua evoluzione più estrema c'è il revolution 3 che sono un unico organo regolatore completo con tre gabbie ciascuna dentro l'altro e ciascuna che ruota attorno a un asse perpendicolare agli altri quindi come un giro tourbillon sostanzialmente con però gli indicatori delle tre velocità diverse a cui ruotano le tre gabbie ma allora uno potrebbe dire è arrivato prima frank muller o è arrivato prima gesele cutre con eric cudre nel giro tourbillon è arrivato prima frank muller perché il primo giro tourbillon gesele cutre di ricudre esce nel 2004 il giro tourbillon 1 mentre qui siamo ancora prima almeno per il revolution 1 e per il revolution 2 ma poi abbiamo l'evolution 3 1 che è un revolution 3 con l'aggiunta di un calendario perpetuo con data retrograda da da ciò che vedo ora torniamo un attimo sulla terra ma non ci resteremo per molto come vedrete questo è il modello più famoso è il crazy hour che io non so in quale anno è stato introdotto quello che so per certo che posso dirvi è che praticamente mentre la sfera dei minuti gira normalmente la sfera delle ore fa dei salti ogni 60 minuti perché le cifre non sono disposti in ordine aritmetico e voi potete vedere qui infatti come funziona questo meccanismo ecco fa il salto e eccetera eccetera è un orologio con una complicazione relativamente semplice è forse il più emblematico i tra i più emblematici dei frank muller sicuramente tra i più venduti dei frank muller e quindi avrà un calibro di base commerciale che potrebbe essere un etta molto probabilmente un selitta perché lo fanno ancora oggi in una versione che festeggia il trentesimo anniversario che alla fine di questo video sempre un video fatto dall'amico pierre cesare di segin e che ringrazio ancora potete vedere diciamo un po in tutte le sfaccettature nella sua prima versione quella più famosa ecco una delle versioni che festeggia il trentesimo anniversario di frank muller sempre l'amico piacese ci fa vedere il suo terzo frank muller cioè il long island con i secondi record retrogradi divisi i primi 30 agli altri 30 che sono è una complicazione banalissima ma da tutto movimento da tutto un sapore al quadrante completamente diverso da un movimento a un quadrante che sarebbe altrimenti molto semplice e banale quindi complimenti davvero piacese le lo ringrazio ancora tanto ricordate se jean è il suo il suo canale youtube veramente degli splendidi orologi semplici frank muller ma che danno l'idea tra i modelli più conosciuti che dai più diffusi che danno l'idea comunque di come questo maestro orologiario la frank muller ha lavorato ecco vedete ancora le immagini di come sta al polso perché questi non sono ancora di misure eccessive lui comunque un polso da 17,5 quindi sul mio quello lì farebbe fatica starci temo comunque il problema non si pone perché non l'ho nel mirino però devo dire insomma tanta roba questi frank muller cosiddetti semplici la storia di frank muller non fede l'azienda frank muller non finisce assolutamente qui noi abbiamo altri due capitoli complicati da affrontare abbiamo le massime complicazioni possibili immaginabili forse l'orologio da polso più complicato mai costruito che forse non ha mai funzionato ma questo è un altro discorso e poi abbiamo le vicende societarie e i dissidi fra frank muller almeno per quello che è risaputo il suo socio vartan si markers e il ruolo di frank muller oggi con tutte le problematiche che questo comporta quindi in realtà i capitoli sono più tre che due ma noi cominciamo cominciamo dalle beghe societarie almeno quelle note poi andremo sulle grandi immense complicazioni e su frank muller oggi ci arriviamo piano piano ma c'è prima ancora delle beghe societarie c'è un altro passaggio che dobbiamo fare per capire il meglio possibile questa storia e come si sviluppa e gli effetti allora noi siamo nelle vicende societarie ho detto nel 91 frank muller fonda con vartan si markers che è un produttore ricasse esperto in pietre preziose in gioielleria e collezionista di orologi così viene descritto da watch wikinette che mi sembra abbia delle informazioni abbastanza accurate di origine armene cittadino svizzero di origine armene la società come abbiamo visto si chiama tecnowatch sa ma nel 98 ovviamente la tecnowatch diventa frank miller watch land sa quindi prende il nome della prestigiosa e sempre in crescita sede si sempre in crescita perché quel maestoso parco attorno a quella villa così particolare e poi includerà sempre nuovi edifici di fornitori ma anche di altri brand orologieri che saranno acquistati o inventati parliamo di piercunzo european watch company rodolf e il commerciante in gioielli il marchio di gioielli beck e strauss in particolare quest'ultimo è un'acquisizione molto importante anche se di fuori strettamente dall'orologeria non solo perché consente di fare orologi gioiello ma perché come ho detto in altri video ho spiegato in altri video quando l'orologeria va male tendenzialmente il settore dei gioielli traina quindi non è un caso che tutti i grandi gruppi dell'orologeria si sono dotati di aziende che producono e vendono gioielli pensiamo all'ultima acquisizione di tiffany da parte di lvmh cioè lui witton moet eccetera cioè bernard arnaud pensiamo a henry witton comprato da swatch group cioè quindi è una cosa importante ma poi anche altri orologiai si sono uniti in questa avventura e non sono orologiai da niente perché abbiamo pier michel golet e su questo nome noi torneremo christian yugins yu in yu ins che non so nemmeno come si pronuncia come avete capito e martin brown che è un watchmaker tedesco poi diventano parti del gruppo dei fornitoni che fabbricano opinioni quadranti incassano e mettono appunto i movimenti quindi diventa un gruppo non dico completo ma insomma abbastanza completo voi pensate che nel 2003 ha venduto ben 49.000 orologi cioè una dimensione che nel 2003 forse aveva patek philip già probabilmente forse è perché poi patek philip andò verso i 60.000 ma più verso il 2008 quindi non sono sicuro comunque un numero paragonabile a patek philip molto superiore all'epoca odemar piguet per esempio è un bel giro d'affari perché come abbiamo visto ci sono orologi di base che comunque orologi di base di vistino venivano comunque sempre alcune decine di migliaia di euro e poi e poi anche se poi venduti con forti sconti e poi le super complicazioni e anche quelle molto scontate ma lì ci tornerò dopo e vi farò vi dirò qualcosa di più allora adesso veniamo alle dispute legali di cui si è conosciuto fra frank muller e si marquez e anche brown il martin browning watchmaker tedesco allora ci fu nel 2003 scoppiò quindi all'apice un po del successo scoppiò una disputa molto lunga fra si marquez e muller al punto tale che a muller fu impedito per molto tempo di entrare a watchland e divenne sempre più imbarazzante anche per i contenuti sentite un po si marquez accusò muller di affrontarlo sotto l'effetto di droghe di alcol e di essere influenzato sia da avvocati che cercano pubblicità e forse anche denaro sia da criminali trafficanti di droga eccetera ma cosa aveva detto frank muller a si marquez da farlo reagire così muller accusò si marquez di impiegare nell'azienda in nero dei lavoratori armeni ma soprattutto lo accusò di aver acquistato movimenti calibri russi di basso costo da paul joe e di aver acquistato dei movimenti di basso costo da citizen per essere poi montati in costosi frank muller cronografi ecco che qui si apre uno scorcio sul mistero dei calibri cronografici base sui frank muller e poi non solo i cronografici base ma insomma qui questa disputa ricordo questo quindi una cosa piuttosto grave allarmante e quindi si marquez replica ma tu sei sotto effetto di alcol e droghe non solo ma muller fu trascinato dentro anche lo jacques affaires uno scandalo di contraffazioni quando si scoprì che anche c'erano molti frank muller contraffatti frank muller si è filato a lungo di giacques sa un produttore di orologi molto amico lui era molto amico con jean pierre giacques da lunga data poi si parla dello zio di muller che fu arrestato come parte nel 2003 di un gruppo criminale qui non capisco cosa c'entri ma lasciamo stare muller accusa o a sua volta si marquez quindi seconda accusa di aver creato orologi contraffatti cioè dei fra muller falsi a watchland e anche in armenia ordinando peraltro 9.000 calibri da eta e da jacques sa per produrre 48.000 orologi nulla comunque di tutto questo fu provato nel 2004 è qui questa vicenda questo deve far riflettere molto attentamente su voce gruppo divenne così preoccupato da questa disputa che divideva i due grandi soci di watchland che offrì jean claude biver che in quel momento era tornato a omega dopo aver venduto blan perna praticamente gli offrì di mediare jean claude biver per mediare tra i due e aiutagli a dirigere l'azienda e nel novembre del 2004 tutte queste accuse caddero e così si marquez continuò a condurre l'azienda come direttore come sio di fatto direttore responsabile finanziario mentre frank muller si focalizzò sugli orologi nel 2004 in novembre 2004 quindi noi aveva 2004 parte la vicenda nel 2003 novembre 2004 tutto viene tacitato e però non è mica finita perché un altro litigio scoppiò nel 2009 nel 2007 il watchmaker tedesco martin brown andò a watchland cioè decise di inserirsi nel gruppo watchland e portò il 51 per cento di del suo brand nel gruppo dopo poi questo inserimento non funzionò e quindi poi lui se ne andò via nel settembre 2009 ma perse ovviamente il suo brand poi se ne andò anche rodolf catten e si fa riferimento a un'intervista di cui però non ho letto i contenuti perché poi sembra quasi di va beh però insomma l'unica cosa che si è saputa poi che la crisi economica del 2008 2009 aveva riguardato anche il mercato degli orologi del lusso lo sapevo io questo sempre detto e il gruppo di watchland group fu ridotto molto anche nelle dimensioni 750 persone furono mandate via nella primavera del 2009 poi sicuramente dopo il risorto è però ecco è chiaro che queste vicende anche per le anche per il contenuto a parte che dimostrano che tra i due principali soci non regna certo una grande affinità e una grande concordia ma poi anche se le dispute sono state chiuse hanno comunque lasciato uno strascico anche sull'immagine degli orologi frank muller io posso dirvi soltanto questo di mio questo è quello che ho letto su watch wiki di mio posso dirvi che questa storia delle dispute ha avuto larga eco che ha appunto rovinato un po l'immagine del marchio il che verso il 2010 2011 gente che collezionisti che visitarono watchland non è che tornarono molto convinti dalla dal modo in cui si lavorava lì e soprattutto si cominciò a diffondere la voce che di fatto frank muller lì non ci fosse più o ci fosse sempre meno che quindi tutto in realtà fosse gestito da si marquez cosa che io non sono in grado di confermare anzi ti lo di più il mistero più passa il tempo più si infettisce perché c'era chi mi aveva assicurato che frank muller viveva in giappone da alcuni anni quindi non aveva più sostanzialmente quasi nulla a che fare con l'azienda sua mentre invece poi un altro giorno un giornalista del settore mi dice invece al contrario che frank muller ha ripreso a lavorare a watch land cosa vi devo dire io non lo so non so è un grande pasticcio e sicuramente tutto questo ha creato appunto dei danni d'immagine ma ora torniamo a divertirci e a parlare dei frank muller veramente complicati no perché noi abbiamo parlato di tourbillon multiassi con calendari perpetui e dall'inizio anche di complica di grandi complicazioni anche molto originali e ben fatte ma non so mica questi in frank muller più complicati e allora cominciamo ad affrontare il capitolo eternitas mega e in particolare l'eternitas mega 4 e allora parliamo di golè di questo grande orologiario che andò a watch land e lavorò per frank muller per il brand french muller e quindi per il gruppo watch land creando gli orologi più con fra i calibri più belli e più complicati del mondo e c'è di che andiamo a vedere nel 2008 circa viene presentato da frank muller l'eternitas mega 4 che in quel momento è sicuramente l'orologio da posto più complicato del mondo ci sono ben 36 complicazioni di cui 24 visibili sul quadrante guardate l'incredibile lavoro di ingegneria e di maestria con cui le varie complicazioni sono state disposte in un quadrante in cui tra l'altro e questo è veramente l'incredibile c'è pure un tourbillon gigantesco con un diametro di del della gabbia di 14 mm quindi una cosa pazzesca in un punto in cui in genere lo spazio occupato dalla grande e piccola suoneria che ovviamente ci sono prova a farvi un elenco delle complicazioni alcune tourbillon carry on westminster con quattro mattelli e quattro gong quindi grande e piccola suoneria a scelta o silenzio e in più ripetizione minuti quattro gong cronografo playback comandato da un solo pulsante un calendario perpetuo secolare poi ci veniamo su questo l'equazione del tempo due fusi orari aggiuntivi rispetto alle ore e minuti e addirittura la ricarica automatica per il movimento e per il carry on westminster con ovviamente bariletti separati ma voi vi rendete conto avete visto questo miracolo di calibro di oltre 1400 componenti cioè è qualcosa di sublime di meraviglioso poi le finiture sono ovviamente il top possibili ecco voi pensate che questo orologio ha un diametro di 42 mm per una lunghezza di 61 mm per una spessore di 19,15 ovviamente non è indossabile al polso ma questo già io lo so perché io ho provato una sul mio polso non questo orologio che a me risulta è stato fatto in due esemplari che sono stati comprati per una cifra stratosferica da due collezionista di cui uno americano e che non hanno mai funzionato da quello che so cioè tornarono subito dopo l'acquisto a watch land e la notizia fece rumore cioè fu una notizia ufficiale che furono ridati all'azienda poi non so com'è finita la cosa se poi li hanno fatti funzionare o meno ma certamente non sono indossabili e adesso poi completo la descrizione questo orologio ha l'incredibile complicazione del calendario perpetuo secolare cioè che non va mai toccato per mille anni perché questo non solo tiene conto dell'anno bisestile ogni quattro anni come i calendari perpetui ma tiene anche conto di quei di quei anni di quei anni non divisibili per 400 in cui il ciclo bisestile non vale e quindi eh praticamente per un migliaio di anni non ha bisogno di regolazione teoricamente ovviamente che poi chiaramente però ecco è proprio il calendario più sofisticato e vi potete immaginare avere una memoria meccanica di centinaia di anni eh cosa possa significare cosa possa significare dal punto di vista meccanico e poi vedete poi una descrizione dei vari tasti e delle varie indicazioni che già di per sé dice tutto della complessità di questa opera meravigliosa allora dovete sapere che in un momento di follia un caro amico ha provato a vendermi un eternitas 3 che non è l'eternitas 4 ma c'ha il turbion c'ha il calendario perpetuo secolare e il cronografo quindi gli manca la parte suoneria eccetera eccetera che non è una parte da poco ovviamente un orologio in oro rosa gigantesco gigantesco di dimensioni che già io mi ricordo provai a metterlo al polso dico ma no questo non 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 lo posso a parte poi il prezzo poi lui mi ricordo e mi diceva ma guarda ti posso fare molto bene dico sì ho capito mi puoi fare molto bene ma io comunque una roba così non me la posso permettere come vedi non me la posso non la posso neanche indossare ma fu un'emozione perché poi vidi il lato b peccato non averlo fotografato perché quel lato b era qualcosa di spettacolare per la lavorazione per il modo in cui erano disposti gli elementi non è che si vedeva tutto il lato b il calibro nudo col vetto però si vedeva il micro rotore gigantesco perché poi sai alimentare tutta sta roba ecco per cui una roba pazzesca incredibile e lo ringrazio ancora per aver avuto l'esclusività di poter solo pensare a un orologio del genere purtroppo era completamente fuori dalla mia portata anche avendo avuto tutti i denari non avrai mai preso un frank muller ho visto sul sito di frank muller che esiste anche un eternitas mega 5 che non è da quello che capisco non è più complicato del mega 4 forse era la versione riveduta e corretta e sperabilmente funzionante del mega 4 che aveva avuto dei problemi io la vedo così però non ci sono informazioni quindi cioè mi fermo lì non so neanche se ne fanno ancora però sul sito c'è ma non non ci sono informazioni quindi anche questo avere orologi così e non fornire dettagliate informazioni non è un altro mistero un po di questa casa così particolare come avrete capito veramente molto particolare orologi pazzeschi orologi pazzeschi è proprio il caso di dirlo ma va beh qui siamo proprio no il super ultra mega galattico ma anche senza andare su questo in realtà frank muller si è rifatta un po notare positivamente in questi ultimi cinque sei anni dunque anzitutto verso il 2011 2012 debuttò il mega turbionna una cosa del genere vi potete già immaginare di cosa si tratta eccolo qui non è il mega ma il giga turbionna perché questo turbionna ha una gabbia di 20 mm come vedete occupa metà quadrante e per dargli una riserva di carica di nove giorni hanno dovuto mettere quattro bariletti quindi c'è un'opera di micro ingegneria e anche di materiali perché anche nel calibro ci sono pezzi di titanio di addirittura di beriglio se ho capito bene ma forse ho capito male eccetera eccetera quindi è un orologio pazzesco lo fanno da più di dieci anni a questo punto ancora in produzione è sicuramente uno dei cavalli di battaglia di frank muller non vi so dire molto altro purtroppo se si vuole poi parlare di frank muller oggi è impossibile non parlare della collezione vanguard che è proposta in un'infinità di modelli questo è il cronografo ma abbiamo anche questo yoking ancora scheleton e abbiamo anche semplici solo tempo ma in realtà la collezione vanguard comprende anche crazy hour e master bank quindi sembra quasi una collezione delle collezioni che riprende anche alcuni grandi successi con bassi investimenti di frank muller con una cassa un po meno vistosa un po meno arrotondata un po più moderna un po più sportiva e ora torno in presa diretta per così dire per diciamo le conclusioni che poi non sono conclusioni perché come come avrete capito il cosa faccia esattamente frank muller di chi ci sia oggi frank dentro l'azienda frank muller io non so molto cioè degli ultimi 5 6 anni di frank muller ho sentito dire che l'azienda sia un po ripresa che ci sono dei calibri interessanti con sette giorni di riserva di carica che questa nuova collezione vanguard funziona anche commercialmente ma tutto il resto mi rimane abbastanza oscuro soprattutto sarebbe determinante capire dov'è frank muller e se e se in che misura frank muller collabora ancora con l'azienda come io mi auguro perché poi parliamoci chiaro frank muller non è stato il primo a fare un'azienda col proprio nome e poi avere in sostanza perderla o avere dei grossi problemi io ricordo daniel roth ricordo gerald gentà che dovete chiamarsi zero charles per negli ultimi anni perché aveva perso il diritto di usare col nome visto che l'azienda era finita prima or glass e poi dopo era finita no non mi ricordo più comunque insomma alla fine era finita da bulgari ecco comprato da bulgari per quello che quelle marche rappresentavano e poi fuse in bulgari e roger dubui che fondò l'azienda aveva come socio dias poi dias l'ha liquidato cioè allora quello che voglio dire io è che queste aziende se non stanno in mano di chi del loro loggiaio che le ha fondate che ha un potere decisionale e continua ad avere un potere decisionale sullo sviluppo dei prodotti chiaramente perdono la loro anima cioè frank muller è un genio dovunque sia qualunque cosa faccia è evidentemente un genio della loro geria se non dovesse più occuparsi materialmente di progettare calibri sarebbe una perdita per il settore immensa poi io mi faccio delle domande se quello che vi ho letto da wiki watch è corretto da wiki watch è corretto allora io mi chiedo ad esempio perché nel 2004 non nel sì nel 2004 addirittura swatch group ha offerto jean jacques biver per sedare gli animi quindi mi faccio anche queste domande ad ogni modo io sarei molto lieto di sapere che questa azienda di nuovo frank muller a pieno regime che progetta calibri che quello che sa fare bene ed è chiaro un grande orologiario non è detto che sia anche un grande imprenditore e purtroppo gestire queste aziende si è capito non è facile tramarosi di crisi generali crisi di mercati catastrofi cioè noi stiamo vivendo un periodo anche molto difficile quindi soggetto alle crisi di singoli mercati però decisivi come quello cinese che poi però si è ripreso però poi c'è stato il lotta cioè ecco in tutto questo resistere non è facile anche per un imprenditore esperto figuriamoci per un grande orologiaio che non necessariamente un uomo d'azienda è un manager ed è capace di gestire un business costoso come quello dell'altro orologeria e quindi sperando anche si faccia chiarezza sui calibri base se sono dei sellita bisogna sapere che sono inserite bisogna sapere dove sono montati se sono frederic piguet o altre cose bisogna che la gente che li compra lo sappia perché in passato questa chiarezza non c'è stata e questo riguarda le gamme più accessibili che poi invece sulle gamme più costose tutta manifattura ma poi c'è il problema del funzionamento ci sono tanti problemi ora oggi però che tolgono il fiato dalla bellezza dalle complicazioni dalla genialità questo frank muller io spero almeno non di aver di essere stato esaustivo perché non lo sono stato ma almeno di avervi dato un'idea della complessità di frank muller del gruppo watchland di tutto quello che ci gira intorno in modo poi che così ciascuno possa approfondire gli aspetti della realtà di frank muller di oggi e magari me li dica o magari me li vado a studiare io voi avete notato che io quando faccio video di storia parlo poco del presente ma perché perché bisogna fare un video solo sul presente sulla gamma attuale e non è detto anche che non lo faccia quando però delle informazioni maggiori perché anche il sito dice davvero davvero poco davvero troppo poco quindi anche questo è un punto critico per un'azienda che deve un po riprendere un filo con gli appassionati benissimo spero che il video vi sia piaciuto io ci ho dedicato a fare questo video tante ore e l'ho fatto volentieri mi sono appassionato a questa storia ho appreso delle cose che non sapevo ho conosciuto meglio delle cose che avevo sentito dire e quindi vi ringrazio per la visione non iscrivetevi ma mettete like così vi saluto e al prossimo video ciao